Perfetto. Buongiorno. Io ho preparato questo discorso per fare parte di una serie di lezioni sull'ora di pranzo organizzato dal Church's Conservation Trust in Inglaterra. Hanno letto il mio libro sulle cento chiese di Matilda di Canossa e ha ritenuto che un discorso sulla contessa sarebbe stata in linea con la missione del Trust che conserve e preservare le chiese medievale in Inglaterra. Paolo Golinelli ha gentilmente accettato la mia offerta di tradurre la conferenza in italiano per far parte della serie mensile di discorsi online offerta dall'Associazione Matilda di Canossa. Come voi sapete, Matilda di Canossa nacque nel 1046 vicino a Mantova e morì lì vicino all'età del 69 il 24 luglio 1115. La sua morte fu alla vigilia della festa di San Giacomo, patrono dei pellegrini, a cui era dedicata la sua ultima chiesa. È conosciuta in Italia come la Gran Contessa per la sua capacità di governo nelle sue terre ancestrali che si estevano da Mantova ai piedi delle Alpi fino al confine di Roma. La sua influenza nel plasmare l'Italia al nord di Roma è tangibile. Matilda fu la più prolifica mecenante della prima architettura romanica sponsorizzando instaccabilmente la costruzione e la conservazione di chiese, abbezie e almeno un bellissimo ponte attraverso i suoi vasti domini. La guida, presentata in dieci itenari, cattologo almeno 136 chiese, a cui è collegata da manoscritti e documenti emessi durante la sua vita e da credibili tradizioni orali. Matilda è la donna al centro della coperta, quella qui, vestito in un semplice abito di colore oro con un mantello verde. In questa illustrazione non sembra una potente regina guerriera, come è stata identificata dal qualcuno, nemmeno una principessa feudale, come è principalmente identificata. Invece questo ritratto contemporaneo la raffigura come un intermedio tra i cittadini che stanno dietro di lei e gli uomini che amministrano la chiesa con cui parla. La copertina fu presa da un manoscritto in latino che descrive la costruzione della cattedrale di Modena. Scritto durante la vita di Matilda tra 1099 e 1106, l'autore registrò gli animati dibattiti dei modanesi mentre lottavano con la costruzione di una nuova chiesa per sostituire la rovinata chiesa del quinto secolo costruita sopra la tomba del loro primo vescovo. Il vescovo geminiano morì 31 gennaio 397 ed è venerato come protettore di Modena contro gli invasori barbarici. I cittadini di Modena impiegarono l'architetto, questo uomo qui con un cappuccio blu, che dirige la costruzione della cattedrale. A destra sono due scene con la contessa. In alta è l'immagine che abbiamo già visto. A basso, Matilda, Lanfranc e vari preti sono illustrati accanto alla tomba appena visto. A basso, Matilda, Lanfranc e vari preti sono accanto a questa tomba che era aperta il 7 e 8 ottobre 1106 per i modanesi a vedere il corpo incorrotto del santo. Matilda portò un vaso di oro che rappresenta le varie donazioni fatte da lei al vescovo di Modena per sostenere la costruzione della cattedrale e la vita dei canonici che servirono la chiesa. La tomba del santo rimane nella cripta della cattedrale in foto nell'alto. A basso si vede l'illustrazione della tomba dal manoscritto con un foto della tomba del quinto secolo dietro l'altare. Giamminiano governava Modena dopo il decadimento dello stato dell'antica Roma. Era soprattutto un leader politico che progettava su comunità come un'isola di civiltà scavata dalla confusione e caos delle invasioni barbariche che dicesero aonde dopo il crollo dell'antica Roma. Vescovi come Giamminiano sono i santi del momento storico di Matilda, conosciuto dai storici come conflitto di investitura o riforma gregoriana della chiesa romana. La riforma iniziò in Francia con i monaci benedettini nel monastero di Cluny. Cercarono di riportare la chiesa alle sue radici spirituali e liberarla e i suoi capi amministrativi, cioè i vescovi, dalle leggi e dai costumi feudali stabiliti dai rei secolari, a partire dal sassone Ottone I nel 960. Qui si vede la fasciata e la base absidee del Duomo nel centro storico di Modena. Forse si riconosce la piazza dalle fotografie del funerale del grande tenore Luciano Pavarotti tenutosi qui alcuni anni fa. Questa cattedrale e altre simili costruite nel centro delle città del nord Italia sono il risultato della politica di Matilda, creata insieme a Papa Gregorio VII per restituire i vescovi che amministrano questa città dell'autorità della Roma papale. Nel processo queste città nei domini di Matilda divennero comunità sociale indipendenti dalle obbligazioni e tasse feudali. Queste cattedrali rimane per il popolo il simbolo della loro indipendenza, che è di ciò che la loro comunità può realizzare quando lavorano per il suo bene comune. Forse l'esempio più spettacolare è il Duomo di Santa Maria dei Fiori a Firenze. I fiorentini sostituirono l'antica cattedrale di Santa Reparata, conservata con varie donazioni di Matilda e la sua mamma Beatrice, e poi la ampliarono notevolmente nei secoli successivi. Oggi la chiesa di Santa Reparata è trovabile da una scala, qui, al dietro della parte posteriore del lavata. Lì si vede il pavimento e un altare dal tempo della Contessa. Dopo la pubblicazione della mia vita della Contessa nel 2004, sono stata invitata a tenere conferenze sulla Contessa nelle varie città italiane. In ogni luogo le autorità locali mi hanno portato a visitare la loro chiesa, uno spazio sacro romanico magnificamente mantenuto. Ognuno era stato costruito per volontà della Contessa Matilda. Prove che la leggenda che la Contessa aveva costruito, restaurato o dotato di oltre cento chiese era vero. Nel processo di registrazione queste chiese su un mappa, ho scoperto che il suo programma di costruzione aveva un secondo scopo, unire i suoi territori a Roma, creando percorsi sicuri e affidabili per i viaggi di Vescovi e Cleri. Sulla scherma sono alcune bellissime chiese romaniche costruite dalla Contessa nelle regioni di Lombardia, Emilia e Toscana. Matilda nacque in un periodo chiamato l'età di buio, o più recentemente l'alto medioevo, che iniziò, secondo un'edizione della storia medievale di Cambridge, con l'invasione barbarica di Longobardi in Italia nel 568, e che terminò proprio nel 1115, quando l'età dei comuni italiani liberi comincia. Precisamente, ma raramente menzionato, è anche l'anno della morte di Matilda. Tra gli elementi distintivi di questa età oscura, c'era la disintegrazione delle strade che avevano collegato l'antico Roma ai tratti più remoti dell'impero, compreso Inglaterra, con il risultato che le terre agricole ritornano in boschi e paludi non coltivati. Viaggi e scambi commerciali sono diminuiti all'aumentare del pericolo e delle spese. I signori feudali, locali, applicavano tasse sul uso di strade, fiumi, porti, mercati e tutti gli altri aspetti della vita quotidiana. Le tasse non andarono alla manutenzione o alla riparazione, ma piuttosto ad un stile di vita sempre più stravagante per un numero sempre meno di nobili feudali, fra cui furono anche gli antenati di Matilda. Il suo bisnonno, il suo nonno e il suo padre avevano costruito fortificazioni sul coline difendibili per autoprotezione, per controllare il loro territorio e per riscuotere le tasse. Nelle foto si vede le fortezze apenninico dei Canossiani. Matilda usò quella rete a suo vantaggio e per la chiesa. Ha trasformato le fortezze in monasteri presidiati dai monaci. I monaci furono in grado di osservare i cavalieri armati che usavano le rotte. e trasmettere tale informazione. Inoltre, secondo la regola di San Benedetto, i monaci offrivano ospitalità ai pellegrini e ai mercanti, riviviando il viaggio e il commercio. Dalla mappa può vedere che le chiese matildiche sono situate su chiare linee difensivi. Ad esempio, qui si vede questa linea verde che collega Piadina, Mantua, Nogara e Legnago. Tutte queste erano fortezze della sua famiglia utilizzate per proteggere l'ingresso di Italia dal Brennero, che va di qua. Ognuno oggi è un comune con una chiesa matildica al centro e nella foto si vede la rotonda di San Lorenzo costruita dalla contessa nel 1081 a Mantova. Le sue chiese sono su entrambe le rive del fiume del Po, incluso Ferrara, un porto sul Adriatico. E nella foto c'è la chiesa di Santa Maria Assunta a Felonica sul Po. Anche c'è questa basilica di Santa Maria Assunta ora su Monteveglio. Era una fortezza matildica. La basilica oggi e anche la pieve di Rubiano sono situati ai ingressi dei passi che attraversano le apennini. Le sue chiese sono su tutte le rive del Arno, compreso il monastero di San Salvatore di Pucecchio che sorge su un'altura dove la via francigena attraverso l'Arno. Qui è la via francigena, qui, qui è la via Aurelio, qui, e qui è la via Cassia di qua. E questa è la linea blu, questo è l'Arno. San Mignato al tedesco si affaccia sulla via Cassia tra Pisa e Firenze e le valli dell'Arno e dell'Elsa. Le chiese matildiche si trovavano a circa 20 chilometri a parte o un giorno di viaggio a piedi. Entro il 1115, l'anno della morte della contessa, il pellegrinaggio e il commercio in Europa rianimarono. Il fatto che Matilda intendesse incorrigiare questo risveglio è dimostrato di questo bellissimo ponte chiamato Ponte del Diavolo, attribuibile alla Matilda circa 1100. Il ponte attraversa il fiume Sergio e collega Luca al passo attraverso l'Apenino che va al castello di Canossa e poi a Modena e a Reggio nella pianura padana. Con la costruzione di questo ponte, Matilda ha facilitato la comunicazione e il commercio tra Emilia e Toscana. Non si può sottovalutare i risultati di Matilda nella costruzione di questo ponte. Questo è il primo ponte in pietra costruito sopra un fiume in Italia dalla caduta di antica Roma, cioè almeno 500 anni. A mio avviso fu ispirato dal ponte Fabricius costruito sopra il Tevere da un architetto di antico Roma nell'anno 62. Vedrai un foto di quello ponte in un diapositivo successivo. Anselmo, arcivescovo di Canterbury 1093-1109, riconove l'assistenza di Matilda nel suo viaggio tra Canterbury e Roma. La incontrò alla fine del 1104 e Matilda scrisse una lettera al Papa Pasquale II per conto di Anselmo. Una coppia di quella lettera si trova a Lambeth Palace a Londra. Quando l'arcivescovo tornò a Canterbury inviò un libro di preghiere e meditazioni per ringraziare Matilda per la sua assistenza nel suo viaggio. Il manoscritto dal 1105-1106 è oggi in un monastero benedettino in Austria. L'immagine sul frontespizio mostra Matilda in piedi rispettosamente davanti l'arcivescovo che in virtù del suo ufficio è seduto sulla sua cattedra. Anche questa volta Matilda non porta alcuna indicazione di titolo feudale o un potere militare. La lettera di dedica che comincia qui sotto il ritratto dell'arcivescovo è indirizzata a reverendai comitessai matildi. L'arcivescovo scrive di averle inviato queste meditazioni compose per i monaci nel suo monastero e lei suggerisce di scegliere quelle che le interessano. La lettera riconosce Matilda come una donna educata e fedele e una partecipante attiva nei circoli doti della riforma gregoriana. Il buon arcivescovo di Canterbury proteva ricarsi a Roma perché la rete di Matilda garantiva un percorso sicuro e affidabile attraverso il nord di Italia. Oltre i suoi confini ancestrali la sua rete si collegava a chiese e ospizi affiliati all'abbazia di Cluny che si estendeva a nord fino a Canterbury. Questo percorso gregoriano creato dai sostenitori di un'amministrazione integrale della chiesa romana ha fornito al Papa a Roma un mezzo per comunicare con tutte le diocesi cristiane in Europa. Molti storici attribuiscono il programma edilizio di Matilda a un'eccessiva pietà femminile o alla influenza ipnotica del carismatico Papa Gregorio VII. Ma io credo che abbia eseguita la costruzione di chiese per un'forte ragione personale e con una chiara intelligenza politica. dato che questo discorso è organizzato intorno al pranzo ho pensato di discuterne intorno all'antipasto matillico il formaggio reggiano parmigiano sopra il quale è insaporito un aceto balsamico al quale ho aggiunto un rametto di basilico fresco per colore si vede il castello di Canossa al centro il reggiano parmigiano è ancora prodotto nelle montagne intorno a Canossa sulla colina accanto a Canossa fino a qualche anni fa c'era un meraviglioso casero che faceva questi formaggi stagionati assolutamente deliziosi costoso oggi è stato anche valutato al tempo di Matilda tre forme di formaggio sono menzionati per la prima volta come affitto pagabile all'abbazia di Marola mostrato a destra in un documento datato del 13 aprile 1159 per l'uso di alcune terre probabilmente donate da Matilda per fondare questo monastero l'aceto balsamico è menzionato per la prima volta nella biografia di Matilda scritta durante la sua vita da un monaco benedettino di nome Donizzone negli ultimi anni della sua vita oggi il suo manoscritto è nelle biblioteche vaticane qui vedete una bottiglia venduta usando la firma distintiva della contessa di cui parleremo un po' più tardi questi due ritratti sono presi dal manoscritto di Donizzone la figura imponente all'estremità destra è padre di Matilda Bonifazio duca di Toscana e marchese di Mancio nel mezzo c'è Matilda che qui assomiglia in questa raffrigorazione di più una principessa feudale sono entrambi seduti su un trono con corone coniche di oro ingioiellate e mantelle di veluto rosso anche esse tempestati di gioielli Matilda è affiancata dal monaco Donizzone alla sua destra e dal capitano dell'esercito di Matilda Arduino di Palude sulla sinistra Donizzone ha sottolineato probabilmente su richiesta di Matilda la sua forte connezione e la sua eredità dai suoi antenati paterni nonostante il fatto che secondo le leggi saliche del re Corrado II Enrico III e Enrico IV solo gli uomini potevano ereditare e amministrare proprietà feudale quando nacque Matilda suo padre era probabilmente l'uomo più ricco nel mondo la sua dinastia ebbe inizio nel castello di Canossa cioè questo cioè questa parte blu la famiglia si arricchi acquistando territori sempre più numerosi grazie a sovvenzioni feudali da parte dei re saliche l'area delineata in blu controllando infine l'ingressa in Italia da nord i porti fluviali sull'Adriatico e Mediterraneo e ogni strada per Roma i vassali di Bonifazio sorvegliavano questi mercati strade e porti fluviali riscuotendo le tasse che li rendevano benestanti e Bonifazio molto molto ricco pellegrini e viaggiatori hanno riportato che Bonifazio fu duro e crudele Donizzone ha anche scritto che Bonifazio non era timido nel mostrare la propria richiesta nella primavera del 1046 non appena il figlio di Corrado il nuovo re tedesco Enrico III arrivò in Italia chiese a Bonifazio di inviargli il famoso aceto che fu fatto nella fortezza di Canossa Bonifazio consegnò l'aceto balsamico in un botte di argento appositamente realizzata trainata da due bui di argento accoppiati da un gioco di argento che fu poi portato in un carro trainato da due bui vivi al re che fu a Piacenza il monaco registra che la sontuosa magnificenza di questo dono così come altri doni altrettanto straviganti ha stupito il re tedesco e la sua corte rendendo il re secondo Donetone geloso della ricchezza del suo vasello il padre di Matilda la sua invidia divenne un'ossessione nel maggio 6 maggio 1052 quando Matilda aveva sei anni Bonifazio fu assassinato mentre era fuori a caccia nelle foreste vicino a Mantua nello stesso anno il fratello maggiore di Matilda Federico figlio unico di Bonifazio e unico erede del Canossa morì misteriosamente le loro morti lasciarono solo due donne nella casa di Canossa Matilda e la sua madre Beatrice di Lorena all'estremità destra in un ritratto dal manoscritto di Donazone nessuna delle due donne aveva alcun diritto della legge feudale salica sulla ricchezza di Bonifazio come re e come loro più stretto parente maschili Enrico III prese tutto in un consiglio dei vescovi chiamato a Firenze nel giugno 1055 il re tedesco prese la feiude di Bonifazio dirigò la ricchezza di Bonifazio al suo tesoreria reale ed esiliò in Germania Beatrice e la figlia Matilda che aveva otto anni soli in un impero senza nessun protettore maschile in cui la ricchezza era acquistata dalla violenza e che non dava diritto legale alle donne di possedere o gestire proprietà o ereditare fiude Beatrice si rivolse all'unica altra potenza oltre al re tedesco Roma papale nella persona di suo zio Bruno di Tull che era Papa Leone IX quando morì Bonifazio il Papa arrivò a Roma nel 1049 con i monaci del monastero di Cluny inclusivo un giovane di nome Ilde Brando che diventerà Papa Gregorio VII nel corso dei successivi 25 anni fino alla sua morte nel 1076 Beatrice riuscì a tornare in Italia con la sua figlia ha stretto un'alleanza con i sostenitori della riforma della Chiesa che ha gettato le basi per tutta la politica di Matilda L'alleanza autorizzò i sacerdoti e i monaci che cercavano l'indipendenza della Chiesa Romana dal Impero Tedesco Nel 1073 Beatrice e Matilda sostenerò l'elezione di Ilde Brando come Papa Gregorio VII in opposizione del re tedesco Enrico IV in un sinodo quaresimale a Roma nel marzo del 1075 Papa Gregorio VII affermò le riforme dei monaci di Cluny progettate per eliminare le interferenze reali nell'amministrazione ecclesiale incluso il divieto di matrimonio clericale della simonia e dell'investimento e dell'investitura dei laici la riforma significa che i vescovi che amministrarono le città dell'impero tedesco potessero essere nominati solo dal Papa a Roma Gregorio Gregorio annunciò che anche i rei come tutti i mortali sono responsabili nel confronto di Dio e del suo rappresentante sulla terra il Papa a Roma intitolato il Dictetus Pei Pai le 27 dichiarazioni manoscritte ribaltano completamente un ordine feudale che era in vigore da oltre 5 anni questo è il documento a destra dello schermo durante il papato di Gregorio VII Matilda visse in questa torre sull'isola Tiberina ai piedi del ponte antico più antico sopra il Tevere a Roma che ho indicato come fonte ispirazione per il ponte del diavolo in una diapositiva precedente i loro alleati chiamarono Matilda il consigliere più astuto di Gregorio i loro nemici la accusarono di essere il suo amante forse peggio i loro nemici hanno accusato il papa di aver seguito il suo consiglio e il consiglio della madre Beatrice il cugino di Matilda Enrico IV il salico il cui padre Matilda incolpò per la morte del suo padre si appose fortemente alla dichiarazione di Gregorio VII sul primato di Roma e si rifiutò categoricamente di cedere le sue prerogative ereditari inclusa la sua capacità di vendere i sedi vescovili o di nominare uomini leali a sé stesso per amministrare la città nel suo regno a gennaio 1076 Enrico IV convocò un consiglio a Worms che chiese al papa di dimettersi a febbraio 1076 papa Gregorio VII lo scomunicò lo scomunicò sollevando tutti i cristiani dai loro giuramenti feudali di lealtà e proibendo a tutti i cristiani di obbedirli come re anche i re inglesi Guglielmo II e Enrico I si opposerò la dichiarazione del papa esiliando due volte Sant'Anselmo da Inglaterra per questo motivo la supremazia dello Stato sulla chiesa in Inglaterra fu risolto 500 anni dopo a favore della monarchia inglese dall'Enrico VIII nel 1538 questi sono alcuni degli eventi che hanno portato al famoso scontro tra papa Gregorio VII e il re Enrico IV di Germania nel castello di Matilda Canossa un luogo isolato incastonato tra le montagne dell'Appennino a sud di Modena il momento è stato custodito nella nostra memoria collettiva per quasi mille anni tutti e tre i protagonisti hanno lasciato il loro reso conto degli eventi anche se è quello del papa che la storia ricorda in una lettera ai duchi tedeschi scritta subito dopo Gregorio scrisse che tra il 22 e il 24 gennaio 1077 Enrico IV era a piedi nudi nella neve in ambito penitenziale davanti alla porta di Canossa implorando il papa di perdonarlo per il suo peccato e restituirlo in comunione con la chiesa romana Donazzone ha registrato la versione di Matilda il monaco scrisse che Enrico IV si ingiochinò in ginocchio davanti al suo cugino Matilda e la supplicò in presenza del suo padrino abate di Cunì di aiutarlo in questa miniatura del testo di Donazzone il re indosso sua corona e tiene la sua sfera dell'autorità reale Matilda si siede sotto un baldechino indossando un semplice vello Enrico allora 26 anni senza si ingiochinò davanti al suo cugino una giovane donna da 28 anni senza diritti teodali nel suo regno la vedova del suo amico e cavaliere assassinato una donna accusata dal suo consiglio di duchi e di vescovi di essere la causa delle sue difficoltà attuali Enrico chiese a Matilda di intercedere per lui con il papa e lei ha fatto il papa ha perdonato il re il 25 gennaio il giorno in cui la chiesa celebra la festa della conversione di San Paolo il papa condizionò il perdono su certe promesse scritte da Enrico IV e il papa richiestò la garanzia di queste promesse dalla contessa lasciando Canossa Enrico IV rompò immediatamente tutte le promesse fatte al papa che la contessa aveva garantiti avendo ottenuto il suo perdono e ripreso la sua autorità reale il biografo di Enrico scrisse che il re aveva superato il papa abilmente impendendo a Gregorio di privarlo del suo diritto reale Enrico rimase in Italia dopo la sua assoluzione sperando di rapire il papa e la contessa che dopo essere stati avvertiti rimasero nella fortezza inesponibile di Canossa per alcuni mesi fino a quando Enrico finalmente attraversò le Alpe e tornò in Germania questa è la ragione intensamente personale per questo programma di costruzione credo che Matilda abbia trascorso gli ultimi 40 anni della sua vita a rimuovere intenzialmente il territorio canossiano Italia a nord di Roma dal controllo di Enrico IV un uomo che l'ha mentito un uomo che ha infranto le sue promesse al papa e il figlio dell'uomo che Matilda ha incolpato per la morte di suo padre Donizone scrisse Matilda lasciò quindi la parte del re e diede tutti i suoi beni a San Pietro che ditenneva le chiavi come divino portiere rendendolo il suo erede e lei l'erede di Pietro ha fatto questa donazione due volte dopo aver lasciato canossa Matilda e il papa trascorsero circa sei mesi viaggiando attraverso i suoi territori e visitando le città e i monasteri per avvisare della loro nuova alleanza arrivato a Roma nell'autunno del 1077 Donizone scrisse che Matilda fece la sua donazione al palazzo del Laterano nella presenza delle principali famiglie di Roma fece di nuovo la donazione nel novembre 1102 a Canossa dopo aver sconfitto l'esercito di Enrico IV e installato uomini fedeli alle riforme gregoriane nelle maggiori parti dei diocesi delle sue territori ancestrali Canossa è ricordato perché fu forse l'unica volta nella storia in cui l'uomo che controllava l'esercito più potente del mondo è stato costretto a inginocchiarsi davanti un uomo che ha derivato la sua autorità da un dio invisibile ma il significato di Canossa è anche questo a dispetto di tutte le usanze feudali e del suo posto in una struttura feudale maschile Matilda abbandonò Enrico IV come suo re perché le sue azioni dimostrò che non meritava né la sua fiducia né la sua sostegno Matilda ritirò le sue terre ancestrali dal re Salico e si alleò con la Roma papale con l'intento di costruire un nuovo governo un governo migliore meno violente più giusto che avesse al centro la chiesa e che si basasse sul modello di antica Roma cristiana in tal modo Matilda fornì un'alternativa romana al governo feudale di Enrico IV che trasformò Europa ponendo fine a un'età scura e muovendo l'Europa verso il rinascimento di architettura letteratura e arte tutte le arti rianimate e sostenute dalla contessa durante la sua vita Matilda ha realizzato questa trasformazione fisicamente costruendo monasteri e ripristinando chiese lungo ogni fiume strada e valico montano nei territori di Bonifazio tranne Spoleto dove non è stato mai registrato questo è l'argomento di questo discorso Matilda compì questo trasferimento spiritualmente assicurando che gli uomini fedeli alla Roma papale e non al re tedesco fossero installati come vescovi nelle comunità nei suoi domini questa è la controversia sull'investitura che è più studiata dagli storici moderni meno capito è che per effettuare l'installazione di vescovi fedeli al loro fianco nelle città del nord di Italia Matilda e suo cugino Enrico dovevano concedere ai cittadini delle città libertà di tasse feudali sul uso delle foreste circostanti pascoli fiumi e strade tasse che avevano reso Bonifazio così ricco e che avevano causato tale invidia nel cuore di Enrico III se Matilda in quanto donna senza alcuna autorità feudale concessa da alcun re tedesco avesse alcun diritto di riscuotere queste tasse è per me una domanda aperta ma nessun documento indica che ci abbia mai provata invece dopo Canossa Matilda ha dato il diritto di riscuotere tali tasse ai cittadini di Pisa e Firenze e ha dato le proprietà che controllavano le riscuotere di quelle tasse ai canoni delle cattedrali di quelle città il suo atto constrinse Enrico IV ad offrire concessioni simili a Pisa Luca e Siena quando tornò in Italia con il suo esercito nel 1081 per deporre Papa Gregorio VII sia lui che Matilda offrirono libertà contrastante ai cittadini di Mantua quando Enrico IV tornò in Italia nel 1090 per superare la resistenza di Matilda ciò portò a compimento anche il trasferimento economicamente a Roma papale durante la vita della contessa i cittadini eletti nei consigli comunali iniziarono a riscuotere quelle tasse feudali ed usare quelli per fornire servizi pubblici alla città e per aumentare la milizia per difendere le mure della città anche contro gli eserciti imperiali come avevo scritto il storico Giovanni Spadolini durante il governo della contessa Matilda i cittadini di Firenze parteciparono per la prima volta all'esercizio del potere pubblico e all'amministrazione di giustizia allo stesso tempo Firenze iniziò ad espandersi oltre i suoi confini urbani con l'assedio di Prato nel 1107 a cui la contessa Matilda partecipò con la milizia fiorentina ai canoni della cattedrale di Pisa Matilda donò la sua fortezza a Livorno che controllava l'accesso al Mediterraneo per Pisa e Firenze e le altre comunità lungo il fiume Arno questa indipendenza economica è ciò che ha dato ai comuni italiani la capacità di resistere a Enrico V e ai suoi successori quando i re tedeschi tentarono di ricomporre i controlli e le tassi feudali quel era dei liberi comuni italiani che iniziò secondo la storia medioevale di Cambridge nell'anno della morte di Matilda per offrire giustizia a quelle comuni e dare a questi cittadini la capacità di autogovernarsi Matilda chiese un studioso di rinnovare lo studio del Corpus Juris Civilis quattro volume di legge civili romani redati dal imperatore romano cristiano giustiniano nel sesto secolo chiamato e luce della legge dal medievista Mark Block gli studenti in Tienieries stabilirono le università di Bologna Parigi e Oxford e fornirono uomini addestrati nella logica della legge per amministrare le città primo del 1150 un monaco di nome Grazian un toscano che visse e insegnò nel monastero di San Felice a Bologna compilò un libro di diritto canonico che incorporava il Corpus Juris Civilis di giustiniano il suo lavoro ha fornito una base per amministrazione di una chiesa romana indipendente La legge di giustiniano forniva anche un argomento legale a sostegno delle azioni di Matilda Sotto le novelle di giustiniano le figlie come i figli hanno lo stesso diritto di ereditare la proprietà e di possederla e amministrarla a proprio nome Matilda matilda annunciò il suo trasferimento di fedeltà a Roma papale con ogni documento che lei emessi negli ultimi quarant'anni della sua vita nelle sue prime donazioni dopo Canossa nel 1078 Matilda iniziava a firmare il suo nome in grassetto maiuscolo all'interno di una croce designata a mano non fa affidamento a suo titolo feudale e la rivendica la sua eredità ancestrale per la chiesa romana per grazia di Dio che ha resa quella che era confronto questo questo firma con la firma minuscoli croce anonime con cui sua madre e Matilda firmarono un placito dopo un'audienza pochi anni prima puoi vedere la confidenza che la sua alleanza con la chiesa romana lei ha dato alla sua morte Matilda fu sepolto nel monastero di San Benedetto Po che era fondato dal suo nono nel 1007 e al quale Matilda fece molte donazioni soprattutto negli ultimi 15 anni della sua vita Matilda fu sepolta nella cappella dedicata a Santa Maria la chiesa fu distrutta da Enrico IV nel suo assedio del 1091 e fu ricostruita dalla Matilda dopo aver sconfitto il re a Canossa nell'ottobre 1092 il suo monumento questo pavimento a mosaico è indicativa della stima e del rispetto con cui era stata tenuta durante la sua vita quattro piccole principesse sono in piedi davanti alla sua tomba illustrano le quattro virtù cardinali giustizia prudenza temperanza e fortezza queste qualità attribuibili alla contessa sono gli attributi direi di un sovrano saggio esattamente come è apparsa nella diapositiva iniziale di questo discorso le chiese medievali costruite da Matilda e credo che le chiese inglesi medievali conservate dal Trust sono monumenti a queste virtù nonché alle virtù teologiche di fede speranza e carità oasi tranquilli in questo momento moderno di caos e confusione le chiese offrono la speranza che una comunità possa di nuova unirsi per un bene comune sotto un sovrano saggio nel tempo a venire su richiesta di Matilda i monaci di San Benedetto Poe hanno celebrato una messa in sua memoria e hanno distribuito cibo ai poveri il primo lunedì di ogni mese per 500 anni fino a 1635 quando Papa Urbano Otto portò il suo corpo a Roma la sua tomba oggi si trova nella Basilica di San Pietro la tomba e la statua scolpite da Gian Lorenzo Bernini mostrano Matilda come forte protettore del papato è l'unica persona non un papa che detiene gli attributi di San Pietro delle chiavi del regno di Dio ed è una delle sole tre donne sepolte nella chiesa di San Pietro a sua volta una chiesa beneficiata della Contessa grazie per avermi permesso di condividere la tua ora di pranzo oggi grazie